Nicola Sadamici 23 scoppia a piangere e commuove molti telespettatori. Ciò accade subito dopo la puntata, mentre viene consolato dai suoi compagni d'avventura. E non solo, il ballerino si sfoga in studio, dopo aver portato a termine l'ennesimo compito che gli ha assegnato Alessandra Celentano. Non è di certo la prima volta che la storica insegnante del talent show mette alla prova costantemente un allievo. Probabilmente lo scopo della professoressa è quello di far crescere questi ballerini, ma il messaggio che passa è ben diverso. Infatti, il pubblico non è per nulla felice di ciò che sta accadendo a Nicolaas. Persino sua mamma è intervenuta nei giorni scorsi, dopo aver visto il figlio star male per gli attacchi della Celentano. Ora i telespettatori dicono basta. A questo punto, mandatelo in sfida, piuttosto che massacrarlo. Questa è l'opinione comune della maggior parte dei telespettatori. Dopo la dimostrazione di Umberto, in studio Nicolaas, di fronte ai professori di danza, si esibisce con la coreografia scelta dalla maestra. È chiaro a tutti che il ballerino abbia delle difficoltà, ma Raimondo Todaro ha sempre dichiarato di essere pronto a tutto pur di farlo migliorare all'interno della scuola. Dopo l'esibizione, ecco che Alessandra Celentano ad Amici 23 attacca duramente Nicolaas, pur riconoscendo il suo impegno. Solo nelle scorse settimane, la maestra ha avuto un acceso scontro con Elena D'Amario, la quale ha preso le difese dell'allievo in puntata.